Signori benvenuti in una nuova puntata della Project Architect Allora raga nella scorsa puntata abbiamo sistemato questo fantastico spawner Vabbè lasciate perdere quei pezzi di vetro che stanno lì Che era praticamente il mio punto dove stare AFK Perché se no non avrebbe funzionato E beh ovvio no Io mi son girato giusto due secondi La webcam ha deciso di non funzionare più Ma giustamente giustamente perché non perdere tempo Allora questo fantastico spawner che raga funziona 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 da dio L'unico problema è effettivamente quell'esperienza Adesso la sto notando Ma in realtà si potrebbe sistemare tranquillamente Andando a fare un'altra cosa della mob grinding utils Allora io intanto mi libero un attimino le cose che ho qua Perfetto Allora abbiamo il absorption hopper Che in teoria dovrebbe prendere tutte le cose della Tutte le Quelli si esattamente No dovrebbe prendere praticamente tutte le L'experience orb Quindi ci potrebbe tornare molto molto comodo Allora andiamo a fare così Queste Queste li possiamo anche ributtare qui dentro Non importa Infine mi serve una bella tanker Che è vetro e alla fine è ferro Quindi 1, 2, 3, 4, 5 Iron Si ne ho Ok perfetto Così non sto lì a prendere tutto dal monster spawner Abbiamo la singularity tanker Perfetto Infine Possiamo fare anche questo Quindi con un po' di obsidian Che è praticamente quello che ci permette di tirar fuori l'esperienza Da 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 una tanker Perfetto Asso E un po' anche good Quindi facciamo così E andiamo Ovviamente i più attenti di voi Dai non è possibile Oh sta cazzo di webcam Io veramente non ho capito ancora Qual è il tuo problema Perché crashi C'è Ok O vediamo adesso se dà fastidio oppure no Vabbè Comunque Vi dicevo Allora Mettiamo l'absorption O per Qui E però Ah lui non prende Devo per forza di cose Metterlo No me l'ha buttato Ma porca miseria Immaginatevi se non l'avessi fatto imparare Adesso servono state bestemmie su bestemmie Allora Absorption hopper Dicevo ragazzi Più attenti di voi Sicuramente avranno notato Quella cesta A fianco alla Transmutation table E ci arriveremo Ci arriveremo Ci arriveremo Allora Quindi io toglierebbe Questo E metterei Così Però Non voglio Assolutamente Che lui prenda oggetti Allora Allora Vediamo Dove Dove posso Far uscire i liquidi Vediamo item No Quindi nord Sud Vediamo ovest No è ovest alla fine Quindi facciamo fluidi Facciamo così E lui dovrebbe Mettere l'esperienza Perfetto Ora facendo F7 Sì vabbè Loro Spawnano lo stesso Non gliene frega niente Solo che l'uno sta più Prendendo oggetti Quindi andiamo a prendere Un po' di legna Facciamo un po' di stick In modo da bloccare Per l'appunto Il nostro Vacuum Hopper Cioè Almeno Il fatto che lui Riesca a prendere Gli oggetti No Togliamo pure tutto Questa roba Very good Poi Facciamo così E queste le buttiamo Qui dentro Come vedete È un piacere Agli occhi Mamma mia Mamma mia Mamma mia Raga È molto 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 veloce Ma raga Cozzarola Guardate tutta l'esperienza Che ho Cioè 30 livelli Fatti No vabbè raga Io alla webcam Arriverà il giorno Che la distruggo A colpi Allora Siamo a 39 livelli Ma in realtà Ragazzotti Noi possiamo mettere Magari una tank Più importante E fargli E fargli prendere Ovviamente Tutto l'XP fluido Eccetera eccetera Per il momento Ci rimane lì Allora Io ragazzotti Ho registrato La puntata scorsa Prima di andare a lavoro Ed erano Più o meno Oh io mi sono rotto Che coglione raga Di questa webcam Però Allora raga Io ho registrato La puntata scorsa Praticamente Prima di andare a lavoro E contate che io Vado a lavoro Verso le 11 Più o meno Dal mattino Il giorno Ho tardato Fino alle 11 10 Una cosa leggera 11 10 11 20 Facciamo Arrotondiamo Alle 11 e mezza Sono tornato a casa Che erano le 2 Mezza Quindi sono passate 3 ore Questo è il risultato Della farm DMC Fatta La blade spawner Ragazzi Siamo 880 mila Andiamo a vedere Quanto riusciamo A prendere 182 milioni Mamma 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 mia Allora 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 Prima di tutto Quindi oggi Raga Fare per avere Il volo In creativa Progette Dobbiamo fare Questo Archangel's Might Che praticamente Ci permette Di volare No Questo era Se non sbaglio Ci permetteva Di volare Ma non mi ricordo Vabbè Comunque L'Iron Band Vuole Un bucket Di lava Tanto Non ho una cuffia Quindi Non sento niente Ecco perché Non sentivo niente Vuole il bucket Di lava Perfetto Poi Tanto ferro Quindi 8 di ferro Ma dovrei averle No L'ho ributtato qui Iron Eingot 1,2,3,4,5,6,7,8 E andiamo a craftare Per l'appunto Il nostro Iron Band Iron Man Perfetto Quindi lo facciamo imparare Lui voleva Se non sbaglio Per fare questo La Dark Matter La Dark Matter Si ottiene dall'Eternalist Fuel Che si ottiene Con la Philosopher's Stone Blablabla Fatta da Blablabla Altre blablabla Quindi andiamo a fare Subito La Philosopher's Stone Allora La Redstone Dovrei averla Nell'inventario Quindi Dov'è la Philosopher's Stone Thank you very much Che è praticamente L'oggetto Da crafting Più importante Della Progette Ora Facciamo Coal 1,2,3,4 Ora La Philosopher's Stone Di per sé Ci permette anche Di fare tante altre cose Però La cosa Una delle cose Più importanti È quella che ci permette Di cambiare Praticamente potenziare Degli oggetti Per ottenerne migliori Per esempio Possiamo ottenere L'Alchemical Coal Che noi facciamo Subito imparare Ne prendiamo altri tre E poi andiamo a prendere Ma io c'ho Le Prisma di Shard Lo sapete cosa fa La Prisma di Shard Ora ve lo faccio vedere U Andiamo su Spawner Increase Il C'è praticamente Aumenta il raggio Richiesto Per attivare Lo Spawner Però Per il momento Lo lasciamo Qui dentro Ragazzotti Quindi Andiamo a fare Con la Philosopher's Stone Questa cosa qua Per ottenere Il Mobius Fuel Quindi lo facciamo Imparare Un, due, tre Più questo Quattro Lo mettiamo Qui dentro Otteniamo L'Eternalist Fuel Che lo facciamo Imparare E andiamo a prendere Ben Sette Eternalist Fuel Più Diamond Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove Nove diamanti Per poter ottenere Una bellissima Dark Matter Eccola qua Dark Matter Per noi La facciamo imparare E ne prendiamo Quattro Quindi facciamo così Così E Con delle piume Perfetto Possiamo fare Il nostro Anello del volo In creativa Se non mi sbaglio Quindi abbiamo Questo Swift Wolf Swift Wolf Rendingale Che però non si attiva Perché non si attiva? Perché abbiamo bisogno Effettivamente Di una Klein Star Ane Cioè la prima La prima stella Per accumulare Degli AMC Quindi Andiamo a prendere Otto di questi Otto E andiamo a fare così Thank you Allora Questa Non mi ricordo Quanto Contenesse Proviamo a fare così 74 Ah no 50.000 Quindi noi possiamo Prenderla adesso No come che si attivava Ecco qua In questo modo Praticamente Possiamo Oh Perché non Ah ma magari Forse devo attivare Ah ecco così E lui piano piano Ragazzi Consuma Gli IMC Però Molto lentamente Molto molto lentamente Quindi Diciamo che Comunque E' una cosa Molto comoda Solo che Però mi sta Continuando A funzionare Perché scusa Ah ok Così Si disattiva In modo da non consumarmi Comunque IMC Anche se stiamo camminando Perfetto Però io volevo fare una cosa Volevo prenderne Ehm Tre di queste E andare a Craftare Per l'appunto La nostra Kleinstar Zwei Che praticamente Ehm E' la stella Di livello 2 Quindi facciamo Così Abbiamo 200.000 Di IMC Che ci fanno Comodo Poi 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 Cosa facciamo Allora Abbiamo 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 Vediamo Se abbiamo Anche altre cose Abbastanza OP A parte Le armi Giustamente Sì Io direi Di Iniziare A fare Le armi Perché Comunque Ci possono Servire Allora Vediamo Un attimo Abbiamo A parte L'armatura Che è Bella Bella Tosta Anche La red matter Blablabla È molto Molto Bella Da utilizzare Poi fatta Comunque Con Tutte le gemme È Veramente Qualcosa Di Allucinante Ed è Fortissima Fortissima Quell'armatura Però Non è Questo Il giorno Perché Ancora Abbiamo Pochi Smeraldi In realtà No In realtà Potremmo Veramente Ottenere Tanti EMC Se solo Ci impegniamo A potenziare Quello Spawner Lo vogliamo Fare Ma Dai Lasciamo Le cose Come sono Per il Momento Facciamo Una bella Dark matter Armor Quindi Di dark matter Me ne servono Allora Facciamo Così Voglio Vedere Quante Me ne Esco Che Uno Stark Va Più che Bene Andiamo Fare Proprio Tutta L'armatura Di Dark Matter Thank You Very Much Thank You Very Much Questa Non Dovrebbe Avere Durabilità In Teoria Non So Neanche Se In Prattica Però Vabbè Facciamo Imparare Thank You Togliamo Questa Armatura Bim Questa E' Veramente Un' Armatura Figa E' Veramente Molto Molto Figa Questa Ce la Buttiamo Così Senza Colpo Ferire Allora Non so Se è Possibile Però Effettivamente Incantarla Allora Innanzitutto Facciamo Così Planks E poi Diamond Se non Sbaglio Ne voleva Uno O Due Ne voleva No Ne voleva Due Più Obsidian Ok Andiamo a Craftarci La Nostra Bookshelf Infine Infine E infine L'Enchant Wintable Perfetto Quindi Facciamo Così Facciamo Imparare Questa E Facciamo Così Ah Molto Bene Molto 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 Bene Allora Dove La mettiamo L'Enchant Wintable Io direi Di piazzarcela Ma Non Qui Sopra Ma Io la vorrei Piazzare Magari Tipo Anche qui Potremmo Fare Così Almeno È Proprio Diciamo Nel punto Giusto No Tu via Vediamo Adesso 30 Di livelli Allora Come potete Vedere Raga Possiamo Potenziare La nostra La nostra Enchantment Table Con Attraverso La E beh Ovviamente La webcam Deve rompere I coglioni Stiamo scherzando Attraverso L'apoteosis Volevo dirvi Allora L'apoteosi Ha tre Valori Eterna Quanta Ad arcana L'eterna È praticamente La forza Dell'incantesimo Possiamo Arrivare Ad avere Un valore Pari a 50 Infatti Se noi Andiamo a vedere Adesso Noi abbiamo 15 Su 50 Mentre Quanta Praticamente Controlla La variazione Degli Incantesimi Quindi Quanto Questi Possono Essere Diversi Arcana Invece Rende Più Comuni Gli Incantesimi Più Rari Quindi Sarebbe Molto 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 Interessante Però Vabbè Per il Momento Non ci Interessa Perché Io Voglio Vedere Più che Altro Se Perfetto Perfetto Good Facciamo pure Buttiamo pure Quelle cose Lì Ora Io vorrei Più che Altro Puntare Ad avere Qualcosa A livello Di Armi Interessante Per esempio Prendiamo 3 dark matter E 6 di Questi Very Good Andiamo A craftare Per l'appunto La roba La roba Sì La red matter La roba rossa Praticamente No La materia rossa Allora Quindi Io vorrei fare Sia il Qatar Che è Molto 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 Buono Cioè Lo possiamo Fare Abbiamo Cioè Di spesa Praticamente Sono 7 milioni E mezzo Quindi Noi Ne abbiamo 180 Lo possiamo Fare Tranquillamente Più la Morningstar Che sono Altri 7 milioni Allora Per fare Ciò Abbiamo bisogno Di piccone Pala E martello Spada Forbici Ascia E la zappa Quindi abbiamo bisogno Di tutti gli strumenti Di red matter E di tutti gli strumenti Di dark matter Perché Raga Abbiamo bisogno Per forza di cose Allora Io direi di fare Proprio così Diamond E poi Red matter Vediamo Quante Ne riusciamo a ottenere Uno stack Ok Quindi Ma In teoria Potremmo Potremmo fare Tutto Molto in fretta Ascia Una bella Pala Una bella Spada La oe Purtroppo Ci servono Tutti Ragazzi Gli strumenti Non ci possiamo Fare niente Le shears Infine Il martellino Della malora Perfetto Poi Red matter Pickax Red matter X Red matter Shower Red matter Sword Red matter Oe Non so perché mi dice che non c'ho gli oggetti E poi alla fine me lo crafta lo stesso Un po' strano Un po' psicopatico Infine Il catar E La morning star Ora questa cosa ci permette di fare Innanzitutto buttiamo dentro queste cose qua Poi facciamo così 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 Queste le buttiamo qui dentro E questa Questo fa una base di danno di 24 Questo 21 Ma non è tutto Ragazzi Non è assolutamente tutto Perché Nella progette Dovrebbe esserci Un pulsante Che dovrebbe caricare Praticamente La I nostri Le nostre cose Quindi se io tipo adesso Facessi così E attaccassi Tipo No No forse era Non mi ricordo Che cazzo A parte che Vedete quanto Quanto è Comoda Per tipo Distruggere tutte le cose No tipo Io adesso Vabbè Morning star Serve per fare Tipo piccone Cose del genere Però Voglio tipo Una zona dove Ma in teoria Dovrebbe essere Possibile Attaccare Gli Questi Aspetta Allora dovrei tipo Disattivare un attimino Questo Dovrei vedere un attimo Come funziona Comunque dovrebbe colpire Più nemici Contemporaneamente Adesso Dobbiamo provarlo Magari tipo In una zona Dove veramente Ci sono tanti nemici Quindi adesso Per il momento Direi di Di ignorare La cosa Allora Quindi Quindi ragazzuoli Io direi di Completare Diciamo La nostra La nostra No Il ferno Via Nevami dalle palle Pure le cose Inutili Direi di Completare La nostra Puntata Con la Red Matter Armor Che comunque Vuole La Red Matter Quindi Andiamo a potenziarci L'armatura Immediatamente Red Matter Armor Veloce 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 Che il tempo E' denaro Il tempo E' denaro Perfetto Bim Ah Molto 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 Better Allora Però Io vorrei capire Come Integoria Progette Charge Mode Ah Forse E' shift Così Rallenta Ok Perfetto 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 Tra l'altro Con questa Ragazzotti Adesso ve la faccio vedere E' qualcosa di fuori di testa Andiamo in un punto Magari tipo Lontano da casa Ma in realtà Me ne potrebbe fregare Poco e niente Tipo Anche Ah vabbè Ovviamente abbiamo Resistenza al danno Da caduta Quindi tipo Io adesso Faccio così Levati Cioè Levati Pro Ah Raga Quanto cazzo E' figa Quanto cazzo E' Figa Questa cosa C'è Un corri Sono diventato Un corri Praticamente C'è Guardate Ragazzi C'è Io potrei correre Oh Mamma mia No vabbè Dai raga Evitiamo di fare danni Evitiamo di fare Ovviamente danni Ovviamente Rallentiamo la nostra Morningstar Perché potrebbe essere Un casino Perfetto Ok Quindi L'ultima cosa Ragazzotti Che volevo fare Perché Ovviamente Ci serve Andiamo a buttare pure tutte queste cose Che non ci servono La Red Matter La No Forse ci serve E Un'altra cosa Legata sempre Alla Progette Che però Dovrebbe essere Di un'altra mod Project Architect Addiction Ok Quindi Project Architect Addiction Allora Che che ne ho messo il link Ah ok No no niente Gli MC Coal Va bene Nel senso Proprio Allora Abbiamo Gli MC Link Gli MC Link Praticamente Riescono A trasferire Degli oggetti A seconda Del loro potenziamento Ovviamente Più o meno Velocemente Utilizzando Gli MC Però Quindi abbiamo Un oggetto al secondo Quattro oggetti al secondo 16 al secondo Uno stack Quattro stack Questa dovrebbe essere Otto stack Più Infiniti oggetti Che vabbè Ovviamente Qualcosa di Absurdus Allora Io però Ovviamente Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Andrei subito A fare Così Così Questo ovviamente Lo andiamo a buttare Qui dentro Facciamo Uno Due Tre Questo lo Prendiamo Uno Due Tre E Prendiamo Anche lui Poi Condenser E facciamo Il condenser Di livello Due Che è questo Che è molto Meglio Del condenser Di livello Di livello Uno Molto Molto Meglio Ragazzi Neanche a paragone Ora ve lo faccio Vedere Allora Qua abbiamo 28 Vabbè Ne ho appena Fatto uno Di Di coso Facciamo MK Condenser Di livello Due Questo Non lo mettiamo Ancora Facciamo così Ed è molto 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 Meglio Perché Consuma Gli oggetti Quasi Istantaneamente Questi Li avrò Sfruttati Ma Porca Miseria Li avrò Sfruttati Tantissimo Raga Tantissimo L'ultima Cosa Che voglio Fare È questa Ovvero Ah ma Questo vuole Il netherite Ah Cazzarola Non ho ancora Trovato il netherite È un problema Raga È un problema Un problemone Gigante Proprio Andare nel nether Adesso Con tutte queste armi E avere Mi fa ridere Perché Raga Adesso Ah Vieni Ciccio Vieni Ops Scusa Ops Scusa Ah Volevo Provare Giusto Ok Questa Vabbè Ti uccide Istantaneamente Dove Voglio Voglio Tipo Una zona Con molti Mob Ecco Tipo Questa Ehi Ehi Ma non li Beccava Più di uno Alla volta Scusa A meno A meno Che non Scusa Shift Left Click Proviamo Proviamo Voglio vedere Un attimo Le potenzialità Di quest'arma Ciao 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 teschi Di merda Prima Era più un problema Visitare il nether Adesso un po' di meno Un po' molto meno Allora Qui Abbiamo Tipo Un insieme Di stronzi Perché Scusa Allora A parte fare Ovviamente Tipo Un casino Di danno Ma Allora Fammi vedere Un attimo Controlli Ehm Progete Change mode Forse è questo Che vuole No 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 Tu C'è un oggetto Che Slay all Dai zitto Dai zitto Guardate C'è quel Ghast C'è stai zitto Proprio C'è Ok Noi siamo venuti Basta C'è Siamo venuti Ma a proposito Ma la lava Mi fa danno Si la lava Mi fa C'è Mi fa danno Per modo di dire Non mi fa un cazzo Vabbè Ehm Quindi Ok Ah Però cazzo Se c'è la lava In mezzo ai coglioni Potrebbe essere Un problema Effettivamente Allora Andiamo Ah Ma l'ossidiana La mino veloce Potrei fare così Effettivamente Ah Va bene Allora Proviamo a scendere giù C'è Raga Guardate quanto Cazzo Di tempo C'è voluto Per prendere Un solo pezzo Di Ancient Debris Tra l'altro Lo stronzone Non è Neanche il valore DMC Però Il neverite scrap Per fortuna C'è la Quindi A noi Frega cazzo Di tutto quello Che abbiamo fatto Abbiamo ottenuto Ehm Dov'è il portalo Il portale Dovrebbe essere Questa zona Si infatti Scolo qua Thank you very much Possiamo andare A casotta Cucinare Il Ancient Debris E ovviamente Andare ad ottenere Ehm Un po' di Nelerite Che non fa mai male Quindi Buttiamo Innanzitutto Dentro tutto quello Che non ci serve Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you No Ancient Debris Me lo dai Grazie E me lo cucini Non so perché Non ho neanche Neanche un pochettino Di coal Dentro la Nostra Userò un Mobius Fuel Così perché Per cucinare un oggetto Ne uso uno Che ne cucinerebbe Uno stack Ok Perché si Perché no Perché no Ragazzi Allora Abbiamo Nelerite Scrap Facciamo 1, 2, 3 Nelerite Scrap E ovviamente 4 Gold Eingot Ecco La crafting table Facciamo Questa cosa qua Bim Nelerite Eingot Lo facciamo imparare Andiamo a vedere Cosa ci serviva Allora Ci serve roba Della Ovviamente Della Refined Quindi Nelerite Eingot Quanti ce ne servivano Ce ne servivano 2 Se non sbaglio Ok Quindi 1 e 2 Thank you very much Poi Ender Pearl 6 Processo Mi ricordo Qual è che voleva Allora 2 Advanced Per parte Se non sbaglio Poi sono Distraction core E constraction core Ok Quindi 1, 2, 3, 4 Poi facciamo Core 1, 2 1 e 2 Infine Il machine casing Very good Very good Very good Quindi Facciamo Network receiver Network transmitter Perfetto Perfetto Vuole un energy Condenser MK2 Ma Non è Più un problema Se non sbaglio Vuoleva Dell'ossidiana E un exporter Con un importer Quindi Obsidian Ora Exporter E importer Io non li ho mai Fatti imparare Ma li faremo Imparare Quindi Vuole un cable Cazzo Non so che neanche i cavi Avevo Non avevo mai fatto Neanche i cavi Vabbè Facciamo così Le faccio Immediatamente Imparare Poi Andiamo a prendere Core Tutti e due i core E infine Il processore Quello D'oro Quindi 1 e 2 Se non erro Se non Mi ricordo male Quindi Per fare questo Facciamo così Per fare questo Facciamo Cosà Perfetto Quindi facciamoli Imparare Immediatamente Perché potrebbero Servirci E infine Abbiamo L'EMC Interface Oh Raga 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 Questa Ve lo giuro Sarà qualcosa Di Assurdo Di assurdo Fuori Di Testa E fuori Di testa Non abbiamo Ancora finito Non abbiamo Ancora infinito Perché Ci serve Uno storage External External storage Se non sbaglio Che vuole Tutte queste cose Vuole Ci mancano giusti processori Quali processori vuoi Un advanced Poi due core Ok Quindi No Quello là L'improved Mi sembra che si chiamava Ok Improved Poi due core Thank you very much Quindi questo va qua Questo va qua Questo va qua External storage Che ovviamente Facciamo imparare E poi Bim Priorità Non sapete ancora Cosa ho fatto Che figata Che figata Vabbè Ovviamente Il momento migliore La webcam E lo rovina Che figata Praticamente Noi Adesso Ogni cosa Che Praticamente Vogliamo Fargli imparare Non abbiamo più bisogno Di buttarla Dentro La porca puttana Di Progete La Transmutation Tablet Non abbiamo più bisogno Di fare Niente di tutto Ciò Ma semplicemente Se la webcam Ovviamente Collabora Vediamo Allora Non lo so Ragazzi Io veramente Mi sto incazzando No adesso Non me la vede Più neanche Cioè Dai Ragazzi Non è possibile Io c'ho una Stream Vabbè Ragazzi Faccio senza chiusura Senza webcam Purtroppo Non so perché Allora Quindi Per fargli imparare Qualsiasi tipo Di cosa Noi non dobbiamo Fare altro Che buttarla Dentro la Refined E lui La impara In automatico Se ha un valore Di MC Ovviamente Ragazzi La webcam Non vuole lavorare Non vuole lavorare Non so per quale Idiota motivo Non voglia lavorare Comunque adesso Ragazzotti Possiamo veramente Divertirci Perché Quando vogliamo Craftare una cosa Qualsiasi cosa Noi abbiamo Se ovviamente L'abbiamo fatto Imparare Al nostro Per esempio Io adesso Non ho fatto Imparare La nederite Che ne so Tipo il crafter No Io lo voglio Fare imparare Effettivamente Cioè per esempio Voglio il crafter Normale No Crafter Non quello Per esempio Tutte queste cose Noi le abbiamo Fatte imparare Ora se io Tipo Prendo il crafter No E lo butto Dentro Andiamo a scrivere Crafter Qui Lui me ne vede 6,2000 Ah che bello Che se c'è c'è Raga Raga È qualcosa di Assurdamente Comodo Tra l'altro Possiamo fare così E prendere ovviamente Quante Transmutation Tablet Vogliamo Tra l'altro Ragazzotti Ora che ci fai pensare Vorrei poter fare Questa Questa la buttiamo Questa la facciamo imparare Questa la riprendiamo Ah Così Adesso Ci abbiamo pure questo Ragazzotti La puntata di oggi Finisce qui Oggi abbiamo proprio Svagato Ci abbiamo proprio Eh Fatto il culo A strisce al modpack Infatti adesso Non ci resta altro da fare Che Eh Fare le ultime cose Da endgame Della progette Ma ovviamente Per il momento è tutto Io sono Mette Ci vediamo Alla prossima